Tanto abbiamo l'esigenza di fare il risultato, però questo ci deve creare ansia, perché comunque alla fine il campionato si deciderà a maggio e non oggi, però siamo consapevoli che dobbiamo andare a Gubbio a fare una partita importante. Ti aspetti una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento che non hai visto l'attivista? Sì, credo che noi dobbiamo trovare quell'equilibrio che ci porti ad affrontare le partite con la stessa intensità in cui abbiamo affrontato alcune partite, le dobbiamo affrontare tutte in questo modo, quindi dobbiamo assolutamente far sì che le partite con Triestina, Sottitiro, ma anche San Benedettese, ma anche altri, non siano episodi, ma siano… cioè per me negli ultimi tempi abbiamo giocato male soltanto con la Ternana, come ho detto anche in altre occasioni, ma delle volte come Pordenone, come ieri, come martedì è mancata un po' l'intensità e questo, quando manca quella è difficile poi fare partite buone, anche se poi se uno ripete la partita in video sembra che hai fatto una partita strepitosa, ma in realtà quando manca intensità i tempi di gioco sono completamente diversi. Hai detto che i campionati si decidono a primavera, però i punti si fanno anche adesso e quelli di adesso valgono così come quelli di primavera. Questo è sicuro, è ovvio, nel senso che i campionati si decidono a primavera ma i punti vanno fatti sempre e comunque, potremmo farne qualche punto in più, comunque credo che poi ognuno si meriti quello che ha alla fine. Mister, hai avuto modo di vedere Infantino tra ieri e oggi, se credi di lanciarlo subito come l'hai trovato? Dalla finestra. Saveriano lo conosco benissimo, quindi so quello che ci può dare. Noi abbiamo fatto, se abbiamo preso dei calciatori, evidentemente avevamo esigenze di prendere quel tipo di calciatori, questo tutti insieme, quindi non solo allenatori ma tutto lo staff tecnico, dirigenziale e via dicendo, abbiamo deciso di fare una strada e per quello che mi riguarda, non è che alle prime difficoltà non decido più di fare una strada, quindi se abbiamo preso dei giocatori che venivano da inattività importanti come Giorgi, come magari Polak è anche un po' saveriano perché anche se si è allenato ha giocato poco e bisogna dare fiducia e proprio come dicevo prima sicuramente ci torneranno utili nel corso della stagione ma dobbiamo portarli a farli giocare, se poi devono star fermi è meglio che stavano fermi chi a casa e chi nelle altre squadre. Però perché Giorgi l'hai lanciato subito invece? Dalla finestra. Sì, sempre la finestra e gli altri invece stai facendo un inserimento graduale, pure Giorgi non giocava da un anno, quindi in teoria… Intanto credo che Giorgi sia un giocatore di uno spessore sia umano sia tecnico fuori dalla portata, fuori dalla norma e lanciato subito, a prescindere non è stato lanciato subito perché è entrato negli ultimi 15 minuti a San Benedetto e veniva già da 10-15 giorni due settimane di allenamento con noi, quindi non è stato lanciato… cioè così. E però dopo titolare subito? Dopo titolare perché comunque non avevamo nessun altro calciatore che potesse giocare ma anche perché credo che sia giusto, per me Giorgi è un giocatore importantissimo per noi, per raggiungere il nostro obiettivo, un giocatore fondamentale. Io ti chiedo se ti sei fatto nel corso di queste settimane, ti sei dato una spiegazione perché questa squadra quando subisce gol, non subisce solo gol, subisce un contraccolpo troppo evidente, cioè secondo te come si lavora, non solo psicologicamente però credo, perché come psicologicamente guarda la squadra? Io ti dico, il nostro staff è composto da, per mia volontà, da un allenatore in seconda molto bravo, molto affidabile, preparatore dei portieri a oggi secondo me molto molto bravo, preparatore atletico molto bravo, abbiamo un match analisi che non lavora sul posto che è di Domenico Biaggio che è molto bravo e abbiamo anche un mental coach che non lavora sul posto per ovvi motivi e che fa l'analisi, viene a vedere qualche partita e fa l'analisi delle posture e di queste cose, quindi credo che abbiamo uno staff che possono trovare spiegazioni ma è difficile poi trovare spiegazioni, ma non in maniera così chiara, nel senso che è difficile dire sempre quello che non va, perché il calcio, io vorrei sempre ricordare una cosa, il calcio è arte, non è una scienza esatta, è arte e come tale va vissuto, è pieno di variabili che nessuno di noi può controllare, neanche i più accaniti sostenitori di un qualcosa, di un credo e quindi credo che la cosa più importante, è la variabile che noi dominiamo 30 minuti, la squadra che abbiamo incontrato, che è Limolese, non ci ha mai calciato in porta, alla prima occasione con le marcature blande, con una serie di errori, magari chi ha letto una cosa, chi non ha letto un'altra, quindi ci sta, però non è possibile che se una volta sbagliamo una lettura, poi crulliamo, quindi è difficile dare una spiegazione certa, è così, possiamo dire, possiamo darci tante spiegazioni, però io credo che debba chiedere io a voi che state qui da più anni, perché succede questo, non adesso, ma da più anni. Ci sono anche delle situazioni differenti, per esempio il 2-1 di San Benedetto, psicologicamente è diverso, lì è più giustificabile, prendi l'1-1 e poi prendi il 2-1 perché lo stadio si accende, è una partita che avevi dominato, lì è più spiegabile, però in casa prendi l'1-0, andare poi dopo 7 minuti sotto 2-0 significa praticamente condannarsi alla sconfitta, ecco, sono anche situazioni diverse, non so se anche tu sei libero stesso tempo. Sì, sono situazioni sicuramente diverse, perché comunque la San Benedetto ha avuto un trasporto emotivo diverso da Bruno Bari, ma noi non, credo che non abbiamo subito il 2-0, abbiamo subito il 2-0 su una punizione da tre quarti campo, su uno schema di lettura facilissima, c'è stato un errore individuale, senza colpore realizzare nessuno, però noi dobbiamo pensare ai partiti durante 90 minuti, ma credo che noi eravamo arrivati a un punto di, dove avevamo trovato un po' la quadratura di questo aspetto, di questo aspetto che sicuramente è un aspetto di, pre-sosta, sì, prima della sosta abbiamo trovato un assetto che comunque a Terni mi ero un po' arrabbiato perché questo aspetto, questo assetto era, cioè vuol dire che ci vuole molto coraggio, poi diventa dalla classifica, noi abbiamo delle qualità che dobbiamo mettere in campo e quando non mettiamo quelle possiamo trovare dei svantaggi, ma non ci dobbiamo abbattere alla prima difficoltà, noi ci dobbiamo esaltare per situazioni a noi favorevoli, credo che l'equilibrio sia fondamentale, questa squadra credo che per alcuni tratti manca un po' di equilibrio, anche se credo che adesso siamo su una strada che ci porterà la salvezza che non è difficile, non è così scontata da ottenere in questo girone, questa è la cosa che io credo che sia più, dobbè essere più chiara a tutti, non solo a me. Formazione? Quale formazione? La sono neanche io. Chiedo all'equilibrio, può aiutare anche Polak, il nuovo acquisto, un suo commento sul suo arrivo? Beh, con l'infortunio di Speranza che si sta propongando più del previsto, la società ha fatto un ulteriore sforzo e ha messo a disposizione dello staffe tecnico un carceratore di spessore che può andare a ricoprire più ruoli nel reparto difensivo e quindi con caratteristiche spiccate che sono quelle della fisicità, ma a cui tanto ci si ispira in Serie C. Domani gioca? Eh, non so. Non so. È disponibile? Viene, viene con noi, sì. Cosa temi della partita di domani? Ma io credo che noi lavoriamo molto su quello che è la nostra impiantistica di gioco, su quello che è la nostra organizzazione, su quello, indipendentemente dall'avversario, ma non credo che in questa categoria ci siano avversari così molto più forti a livello individuale di altri. Io credo che i valori siano soprattutto umani, i valori siano… avere umani parlo per coraggio, coesioni di gruppo, parlo per voglia di sacrificarsi, voglia di ottenere un obiettivo per forza e quindi quello che temo è sempre il nostro atteggiamento, il nostro atteggiamento, nel senso che sono preoccupato oppure rivolto il pensiero a quello che siamo noi e non che sono gli altri, conoscendo logicamente quelle che sono le caratteristiche del Gubbio. A quanto punti di distanza Teramo dal Gubbio un pareggio potrebbe essere un risultato positivo? Per non staccarsi troppo, ovviamente è chiaro. No, è vero, ogni volta bisogna anche accontentarsi così, bisogna anche sapere gestire un pareggio, cose che noi abbiamo fatto per alcune volte, altre volte no. Se oggi noi, qualche sconfitta che abbiamo subito per una, fermo, gestiamo meglio i risultati, magari potremmo avere due o tre punti in più che oggi erano oro, però è inutile parlare del passato perché credo che nessuno ce lo restituisca e dobbiamo parlare del presente, il presente è questa conferenza e domani è la partita e dobbiamo fare una partita per cercare di portare a casa più punti possibili.